carissimi amici qua come il solito martedì alla sera alle 22 inizia la nostra trasmissione già da penso un paio d'anni che la stiamo mandando avanti Don Chisciotte e i mulini a vento siamo già il 26 di settembre siamo già in autunno anche se devo dire la mattina è freschino qua a Casalecchio dove Casalecchio di Reno dove trasmetto è freschino ma durante il giorno si sta ancora abbastanza bene stasera abbiamo un ospite che conoscete il dottor Stori Simone l'odontoiatra delle nostre network e l'ho invitato perché c'è un motivo che mi ha colpito una festa che mi ha colpito anche se ho già l'età per esserlo ma non lo sono il 2 di ottobre sarà come ogni anno la festa dei nonni una brevissima prima di iniziare la chiacchierata e l'argomento prima di tutto che Simone tratterà stasera volevo ricordare un pochino questa caratteristica festa che logicamente viene dall'America come tutte le feste un po' particolari che è stata concepita per un gesto di riconoscenza verso gli nonni angeli custodi dell'infante ed è venuta una casalinga dell'west virginia marion mcquade che mamma pensate mamma di 15 figli e nonna di 40 nipoti che ideò così questa festa nel 56 e nel 78 nel 1978 il presidente americano jimmy carter la proclamò festa nazionale dei nonni anche qua in alcuni stati europei questa festa si festeggia e da noi si festeggia il 2 ottobre che è collegata alla festa cattolica degli angeli quindi ha unito i nonni che sono gli angeli custodi dei nipoti e quindi hanno scelto questa data e riallacciandomi al nostro ospite possiamo subito capire il collegamento i nonni quando arrivano all'età dei nonni ci sono anche nonni giovani a dire la verità ma quando noi pensiamo ai nonni pensiamo dei vecchietti o delle vecchiette intorno ai 60 anni 65 70 anni diciamo già in pensione quindi con tutto il tempo a disposizione per i propri nipoti certamente sorgono già i primi problemi ai denti e ci si avvicina poco a poco alla età veneranda delle protesi questo è un argomento simone credo che non abbiamo mai trattato nei nostri no infatti abbiamo mai trattato ma secondo te facendo una casistica che percentuale di nonni hanno bisogno della protesi parliamo di dentiera ecco allora la dentiera ormai diciamo quella totale sta sempre più diminuendo come casistica perché? perché fortunatamente con più si va avanti con gli anni c'è sempre una maggiore attenzione ovviamente alla prevenzione e alle cura delle patologie in primis la parodontite ovviamente di cui abbiamo comunque già parlato che è la patologia che se non trattata fa cascare i denti però la percentuale dei nonni purtroppo che hanno bisogno di protesi in senso lato che la protesi vuol dire che gli mancano ovviamente dei denti dobbiamo fare ovviamente questo legame è ancora molto alto perché veniamo da generazioni in cui c'è comunque un'usanza che c'è sempre stata che al minimo problema il dente veniva cavato via dente che veniva cavato via e che quindi va comunque sostituito abbiamo quindi dei casi in cui purtroppo si sono persi tutti i denti se non si è persi tutti i denti il paziente che non può stare deve avere bisogno di denti per mangiare per sorridere e per tutto ha necessità di una dentiera la dentiera quindi la protesi totale è una prevede una base di resina che va nella parte superiore a prendere anche purtroppo tutto il palato mentre è ovviamente la fila di denti di resina la parte estetica che se ben costruita e ben ribasata può anche durare tanto tempo può durare tanto tempo e non ha neanche necessità delle paste delle paste delle protesi perché ha un effetto di suzione col palato qualora nel tempo una cosa molto importante per chi ci ascolta è che se uno dovesse già avere la protesi è importante dire che dopo un po' di tempo la protesi potrebbe iniziare a ballare e perché una protesi inizia a ballare? inizia a ballare in quanto i tessuti sotto quindi le gengive l'osso si vanno a modificare si rimodellano e quindi la protesi che è stata costruita in un preciso momento dopo vario tempo vari anni non è più diciamo conformata perfettamente la situazione sottostante in questo caso non c'è nulla da preoccuparsi e invece di andare a mettere chili di colla come purtroppo molti fanno si può fare con una spesa veramente irrisoria fare quella che si chiama la ribasatura cioè con una procedura che si fa in giornata si va a dare una nuova forma alla base della protesi per essere perfettamente conformata alla nuova situazione stessa cosa si può fare invece se una persona ha una protesi parziale che cos'è una protesi parziale? quindi una protesi che ha ancora però in cui abbiamo ancora dei denti in bocca alla quale è collegata e stabilizzata con l'aiuto di ganci o attacchi qualora purtroppo per motivazioni traumatiche di carie o parodontite i denti residui dovessero venire a mancare che cosa si può fare in maniera semplice? si può estrarre il dente quindi purtroppo compromesso che viene inserito all'interno della protesi già presente quindi senza dover per forza di fare tutta la protesi con una spesa veramente molto bassa si aggiunge questo dente e si dà nuova forma alla protesi se i denti possono hanno magari sopra sono tutti cariati tutti brutti ma hanno la radice ancora buona una soluzione proprio che l'ho proposta proprio oggi una signora che purtroppo ha perso i denti però aveva ancora le radici buone e quella di stabilizzare le protesi soprattutto quelle sotto che sono quelle che nel lungo termine possono dare decisamente più problemi perché sotto quando uno non ha più osso le protesi proprio non stanno ferme le protesi non stanno ferme quindi spesso persone proprio anche solo con la lingua le fanno uscire e questo crea un disagio molto importante se è presente ancora qualche radice in maniera semplice è possibile mettere una specie di bottone automatico all'interno della radice del dente che si va ad attaccare con una clip alla protesi in modo che la riesce a stabilizzare però la cosa bella dell'epoca moderna è che si è destinati anche a non avere più le dentiere anche chi ha già la dentiera o una protesi mobile abbiamo nuove soluzioni più moderne che permettono di toglierle e quindi passare da una protesi mobile a una protesi fissa anche se c'è poco osso e uno non ha più denti come si fa questo? si fa questo con una nuova tecnologia una nuova non tecnologia una nuova protocollo una nuova tecnica che si chiama all on four che vuol dire tutto su quattro che è una variante che si chiama tutto su sei all on six cosa si fa? si vanno a posizionare quattro impianti che sono delle radici artificiali di titanio che vengono inserite nell'osso che è rimasto anche se ce n'è poco e ai quali si va ad ancorare in modo fisso la protesi e questo permette anche a volte in una giornata come spesso viene anche pubblicizzato di entrare con la dentiera e uscire con i denti fissi e questa è decisamente una innovazione che è estremamente utile e permette a tante persone anche appunto di dire addio la dentiera che per molte persone è veramente vissuta con un disagio anche se invece ne abbiamo altre che si adattano in maniera molto comoda e si trovano molto bene quindi l'unica manutenzione che ripeto devono fare è quella di fare la ribasatura una volta in tante come fare la revisione della macchina nel senso una volta ogni tanto bisogna controllarla la protesi un'altra cosa che ci tengo a dire non va tenuta in bocca tutto il giorno e tutta la notte molte persone che ovviamente anche un po' si vergognano ad esempio tante volte le signore che si vergognano della si vergognano che magari di non voglio far vedere al marito o al nuovo compagno di avere la protesi la tengono tutto il giorno anche la notte in verità è importante andare a togliere la protesi la notte per lasciare riposare i tessuti che comunque devono essere un po' liberi di riposarsi togliere dalla compressione che hanno avuto tutto il giorno quindi questa è una non si fa più come una volta i nonni che mettevano nel bicchiere è verità sarebbe giusto sarebbe giusto ma tante persone invece un po' anche per vergogna che si vergognano di avere la protesi vanno a vanno a rimuoverla vanno anche a rimuovere ecco quindi queste sono cose molto importanti appunto queste novità hanno veramente cambiato tanto la prodotto di atria e anche il comfort dei pazienti perché dicevo per molte persone non molte persone non si riescono proprio ad adattare alla protesi quindi questo ovviamente una domanda così per me al di fuori della scienza però una volta ne abbiamo parlato leggendo i libri del del 7-800 si parla di dentiere voleva un po' la storia della dentiera una volta erano addirittura di legno se non era sì sì assolutamente le dentiere appunto ci sono già ritrovati anche veramente molto molto antichi di dentiere questa cosa simpatica fatte di legno esattamente alcune addirittura si creavano con 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 le molle quindi avevano delle molle che tenevano il sopra e il sotto unite poi dopo si sono fatte ovviamente anche in avorio con le basi con tutti i nuovi materiali fino ad arrivare appunto a quelle ovviamente più moderne c'è stato anche un periodo ad esempio che nella protesi superiore si metteva una specie di oddio come si chiama di quella che fa la suzione la di ventosa ecco non mi veniva il termine si 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 faceva con la ventosa cosa che ha un suo senso però purtroppo creava dei buchi anche nel palato per l'utilizzo quindi creava delle lesioni attualmente invece abbiamo dei materiali che al solito si usa delle resine però addirittura siamo arrivati a avere per persone che purtroppo che purtroppo erano sono allergiche alle resine perché ci stanno sviluppando delle allergie a questi materiali purtroppo prodotti chimici si sono creando delle protesi anche allergiche come ad esempio quelle in nylon o in deflex sono materie di nuova generazione molto performanti anche più sono molto molto leggere sono molto leggere sono anche flessibili quindi sono veramente dei prodotti sempre sempre più innovativi quindi però anche se comunque dobbiamo il concetto di costruzione della protesi è rimasto immutato da da tanto tanto tempo quindi il concetto è sempre lo stesso quello che appunto ci viene in aiuto sono i materiali per le basi ma anche per i denti con file di denti che sono sempre più estetiche con colori sempre più variabili e quindi sempre per essere conformate al volto del paziente ecco guardate che una protesi fatta bene è un ottimo ha un grande valore e ti permette di masticare di stare ferma l'importante è che venga costruita con tutti i passaggi e tutti i crismi ovviamente certo quindi si deve parlare passare da una buona come si dice una buona costruzione una buona costruzione da un buon impianto e lateralmente alle protesi c'è l'igiene delle protesi certo assolutamente altri prodotti ce ne sono tanti assolutamente allora abbiamo tanti prodotti che permettono di tenere cura delle protesi allora innanzitutto la prima cosa è sempre comunque la pulizia come nei denti è la pulizia meccanica pulizia meccanica si fa con uno spazzolino oppure c'è lo spazzolino da protesi se uno non ce l'ha può tenere lo spazzolino quello vecchio quando lo cambia uno spazzolino da denti normalissimo che può che puoi andare a pulire la protesi dentro e fuori con del sapone neutro non c'è bisogno di usare spazzolini del classico sapone neutro l'importante dopo averla spazzolata per bene è andare a sciacquarla ovviamente e anche asciugarla in modo che non faccia poi cattivo odore questa è un'altra cosa importante oppure si potrebbe fare una pulizia che però attenzione non deve sostituire la pulizia meccanica è usare le pastiglie le pastiglie vanno a fare una detersione che è anche antibatterica e permette di evitare che si formi anche un po' di cattivo odore della protesi però ripeto è sempre una cosa aggiuntiva se vedete delle concrezioni invece più dure che è del tartaro che purtroppo si forma si forma sulla protesi purtroppo invece siamo noi quindi dal dentista che veramente in pochi minuti ve lo può togliere in maniera molto semplice riguardo invece sempre all'utilizzo di colle e adesivi con adesivi ce ne sono di vario tipo la merceologia è molto ampia sono tantissimi sono degli ottimi prodotti comunque in generale quello che io consiglio a me piacciono comunque si possono usare se una problematica è proprio di stabilità che è tutta la protesi che balla quello che consiglio è usare gli adesivi quelli fatti proprio tipo a semicerchio che si possono mettere nella base che creano i cuscinetti questo è una possibilità l'altra possibilità è invece usare la colla diciamo in stick diciamo così che viene va messa però non va messa dappertutto in modo eccessivo basta mettere in due o tre punti quindi diciamo tipo a trapezio quindi se una protesi ad arco quindi un punto un punto qui un puntino qua e un puntino qua e schiacciare bene per migliorare l'adesione è importante avere la protesi ben asciutta ed è importante anche avere possibilmente le gengive anche asciutte quindi magari asciugarle con una garzina ah sempre a proposito di igiene anche le mucose vanno comunque pulite vanno pulite con una garzina e magari ogni tanto con un po' di colluttorio e questo è importante e se ci sono dei denti o radici residue è importante pulirle perché comunque si potrebbero carriare e questo è molto importante qualora la protesi dia fastidio e quindi vengono quelli che si chiamano i decubiti quindi queste zone che sono estremamente fastidiose è possibile trattarle con dei prodotti specifici come ad esempio ad esempio sono quelli a base di aloe senza fare nomi comunque l'Alovex è considerato uno dei prodotti più performanti per questa tecnica per queste problematiche ed è importante anche non quando possibile magari quando si è in casa non usare la protesi quindi togliersela e usarla il meno possibile in modo da lasciare i tessuti liberi di guarire e coadiuvato con alcuni prodotti appunto specifici come il buca gel l'Alovex comunque prodotti che di solito cosa fanno creano una piccola pellicola superficiale che protegge e rigenera il tessuto infatti adesso parlavi di cuscinetti adesso anche le pubblicità che si fanno sono sempre più indirizzate verso l'uso di questi cuscinetti adesivi forse anche molto più pratici molto più veloci da utilizzare come hai detto tu prima si si i cuscinetti sono buoni anche se però siccome creano spessore se la protesi è ben fatta come ho detto prima non bisogna usare assolutamente adesivo cioè una protesi ben fatta non deve prevedere l'uso di adesivo questa è una cosa che ci tengo e come vi ho detto se non è più stabile e necessita adesivo si può facilmente in una giornata con spesa abbastanza bassa andare a rimettere a posto facendo questa manovra che si chiama ribasatura qualora la protesi balla poco si può mettere la colla come vi ho spiegato prima nei tre punti qualora invece balli tanto e non ci abbia la possibilità o la voglia di andare dal dentista invece in quel caso conviene il cuscinetto in quanto va a creare una base totale ok quindi queste sono è molto chiaro è molto chiaro adesso così un po' per staccare perché tu hai spiegato in maniera molto esaltiva tutta la realtà delle protesi metterei un brano musicale ok perfetto staccare un attimo a te cosa ci proponi ok lo scopriremo grazie a tutti 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 tutti quei sussidi che ci permettono di mangiare o comunque di sentirci meglio quando abbiamo perso i denti, per le motivazioni di cui abbiamo già parlato anche in altre trasmissioni. A te Simone, continua pure la chiacchierata. Abbiamo parlato finora di dentiere, quindi protesi totali o queste nuove riabilitazioni su 4 o 6 impianti che permettono di non avere la dentiera ma i denti fissi. Però fortunatamente, soprattutto con l'avanzare della prevenzione, non dobbiamo dimenticare che in verità molte persone fortunatamente non è che hanno perso tutti i denti, ma ne hanno persi solo qualcuno. Avendo perso qualcuno, andiamo quindi a vedere cosa succede quando si perde un dente e perché è importante sostituirlo e quali sono le tecniche per sostituirlo. Allora, quando perdiamo un dente, innanzitutto la prima cosa che succede è che si va a rimaneggiare tutto il tessuto osseo e ovviamente va a diminuire. Quindi l'osso si va a riassorbire e rimodellare e in alcune zone purtroppo, come ad esempio nell'arcata in alto verso la zona dei molari, quando perdiamo un dente molare, cosa succede? Sopra noi abbiamo qua delle cavità che si chiamano seni macellari, che sono delle zone vuote, aeree, dove si va a scaldare l'aria quando respiriamo dal naso. E cosa succede? Che quando perdiamo il dente, piano piano l'osso scende, sale dal basso e questa cavità si espande, si pneumatizza e cosa succede? Che va a rubare osso appunto a una potenziale riabilitazione dentaria con impianti, che vedremo dopo. Quindi il concetto è che piano piano, una volta persi i denti, i tessuti si vanno a riassorbire. Quindi questo è un fenomeno che accade. E un'altra cosa che è molto importante è che i denti, quando gli mancano quelli vicini o quelli sopra, si vanno a spostare, perché vanno a cercare un contatto. E quindi che cosa succede nel tempo, nel lungo termine, nel medio-lungo termine? Che se noi perdiamo un dente nella stessa arcata, quindi a metà fra due, i denti di fianco andranno a inclinarsi, creando delle problematiche di masticazione e succederà che il dente sopra inizia a scendere, a estrudere, creando anche in questo caso delle interferenze che possono dare anche grosse problematiche. Addirittura accade a volte, ho visto un caso proprio pochissimo tempo fa, in cui una persona era verso i molari e i denti sopra erano così scesi da andare a masticare la gengiva sotto. E questo può creare anche cose brutte, perché un tessuto sempre tagliato, quindi con un trauma continuo di questo tipo, può portare anche allo sviluppo di tumori. Non è che fossero vampiri. No, però inoltre può creare problematiche al collo, interferenze e cose di questo tipo. E quindi è importante andare a sostituire i denti mancanti, soprattutto se sopra abbiamo i denti antagonisti. Cioè abbiamo i denti e non abbiamo quello sotto, o quelli di fianco. Non è importante avere, dico sempre nei pazienti, una bocca, allora il signore o chi per lui ci ha dato 32 denti. L'evoluzione sta facendo sì che per via del nostro nuovo concetto di masticazione, degli alimenti che noi mangiamo, i denti del giudizio sono sempre meno necessari, quindi spariranno nel concetto evolutivo. Infatti le bocche sono sempre più piccole, ma perché mangiamo cibi molto più morbidi, quindi abbiamo bisogno di triturare o mangiare, quindi abbiamo bisogno di tutto questo apparato dentario così importante, tanto che appunto i denti del giudizio spesso e volentieri sono sempre inclusi o danno problemi e quindi spesso vengono anche tolti. Una bocca per essere funzionale è importante che arrivi almeno al primo molare, questo è il concetto che uso anche nei miei pazienti, quindi se mancano i secondi molari è meglio averli, però diciamo una bocca è ottimamente funzionale fino al primo molare e questo è un concetto che è molto importante. Quando mancano i denti come possiamo sostituirli? Quindi innanzitutto dicevo i denti dietro sono fondamentali, ci sono persone che arrivano che hanno solo i denti davanti, non hanno nulla dietro e dicono che non gli interessa nulla perché loro intanto hanno la parte che si vede. In verità non è vero questo perché non riescono a masticare bene sicuramente e quindi masticano il cibo poco, masticando il cibo poco possono avere dei problemi intestinali perché ovviamente il cibo non è masticato in modo corretto, ma soprattutto i denti davanti non sono denti che sono stati concepiti per masticare, quindi va a creare una forzatura di questi denti che fa creare questo movimento, cioè i denti si vanno ad aprire, quindi da così che devono essere si sventagliano, si sventagliano creando una problematica, i denti che possono muovere e anche cadere per via di questo trauma continuo e inoltre cosa succede? Che i denti dietro si abbassano, lo spazio fra le mandibole, creando delle problematiche che si chiama dimensione verticale, creando una problematica molto importante nella riabilitazione perché non c'è proprio spazio fisico a volte per mettere i denti e ciò richiede una riabilitazione di tutta la bocca che diventa una riabilitazione anche molto costosa e anche molto lunga, complessa e costosa. Quando mancano quindi i denti, uno o più o pochi denti, quali sono le tecniche per sostituirli? La tecnica ovviamente più semplice e più economica è una protesi mobile parziale, quindi si va a fare una abbastanza semplice, si toglie il dente oppure manca già, si va a fare un'impronta, quindi si fa un calco in gesso della propria bocca e il laboratorio va a confezionare una protesi mobile che va a mettere i denti che mancano. È importante dire però che una protesi mobile, seppure parziale, spesso e volentieri non è che si fa solo della zona dove si manca, ma richiede anche tutto un ancoraggio che finisce fino all'altro lato della bocca, perché comunque ha bisogno di stabilità. Viene a costare qualche centinaio di Euro una protesi mobile provvisoria e dobbiamo pensare che la tecnologia ha fatto sì che non c'è più bisogno, non si possono non più mettere quei ganci brutti di ferro che si vede una volta in giro, quei ganci anche molto antiestetici, estetici, ma la tecnologia fa sì che i nuovi ganci siano trasparenti, rosa oppure bianchi, a seconda della condizione e quindi riescono a rendere mimetica e quindi sempre meno invasiva dal punto di vista estetico queste protesi che spesso e volentieri non si vedono dall'esterno, se non ovviamente un occhio molto attento. Una protesi mobile dicevo se ben fatta è un'ottima soluzione anche economica, magari come in attesa poi di fare qualcosa di definitivo e di fisso, che è quello che spesso accade ad esempio nella mia pratica, quindi uno purtroppo perde i denti, gli andiamo a mettere una protesi mobile per far guarire tutto e comunque dagli estetica e masticazione e poi possiamo andare a sostituire con un qualcosa di fisso. Una variante definitiva della protesi mobile parziale con i ganci di nuova generazione è la protesi con attacchi. Gli attacchi di precisione che cosa sono? Si utilizzano i denti residui che vengono incapsulati, cioè vengono protetti con una capsula di ceramica, di metallo e ceramica, questa capsula che cosa ha? Di fianco ha una specie di slot di guida piccolina che funge da guida nella protesi mobile, questa permette di far sì che non si vedono i ganci e inoltre a livello biomeccanico è una protesi che è estremamente più performante e va a distribuire i carichi in maniera molto migliore non rovinando i denti, perché purtroppo i ganci nel lungo termine vanno a rovinare i denti a livello di sollecitazioni, nonché spesso e volentieri li fanno carriare o comunque rovinare. E queste quindi sono le opzioni per i denti a livello mobile. A livello fisso che cosa possiamo avere? Ci sono due grandi categorie di riabilitazione, quelle fisse su denti naturali, quindi sono i famosi ponti, oppure possiamo avere sempre più, ovviamente sempre più di moda diciamo così, ma in modo corretto, che sono gli impianti osteointegrati. Il ponte che cos'è? Il ponte null'altro è che la sostituzione dei denti mancanti appoggiandoci ai denti di fianco, che diventano i pilastri. Questi denti vengono limati ormai con quelle nuove tecniche, veramente poco poco poco, parliamo di una limatura intorno di circa un millimetro, quindi veramente molto poco rispetto a quello che si faceva prima, e i denti vengono protetti con una protezione, che quindi sono delle capsule di ceramica che contengono in una struttura unica anche i denti che mancano. E questo appunto permette di sostituire in maniera rapida e senza chirurgia, perché l'alternativa vedremo è gli impianti, soprattutto quindi quando non c'è osso, permettono di sostituire i denti mancanti. Ovviamente una condizione sine qua non per fare i ponti è che ci siano i denti all'inizio e alla fine, di dove c'è il buco. Si possono fare gli sbalzi, diciamo che si chiamano così, a livello tecnico, però a livello biomeccanico sono destinati, non sono proprio la scelta ideale. Possono una volta essere scelte di compromesso, però non è la soluzione più corretta. Quindi per fare un ponte, il ponte è la soluzione migliore quando abbiamo i denti davanti e dietro, i denti pilastro, magari i denti sono pilastri, sono denti che non sono vergini, ma magari hanno avuto carie, hanno delle otturazioni o ancora meglio sono denti devitalizzati, i denti devitalizzati andrebbero comunque protetti con le capsule e quindi è sicuramente la scelta più corretta se manca un dente e abbiamo i denti di pilastro devitalizzati, fare un ponte. Se un dente invece è proprio vergine, diciamo che il ponte è una buona scelta qualora magari manchi l'osso per mettere gli impianti, che adesso andremo a vedere che cosa sono bene e quindi magari per mettere un impianto dovremmo fare interventi di ricostruzione ossea che sono interventi molto costosi e molto invasivi. Quindi io di solito in questo caso cerco di fare sempre soluzioni meno invasive possibili. Certo, questo è molto importante. I ponti ben costruiti sono ponti appunto in cui non si vedono i bordini di ceramica, si mastica bene, non danno fastidio e permettono di riabilitare in modo estetico e funzionali le lacune dentali, quindi i denti che mancano. L'alternativa più moderna che è quella che ovviamente è il concetto più corretto di riabilitazione di denti mancati e l'utilizzo degli impianti. Abbiamo già accennato prima l'implantologia che cos'è? L'implantologia è l'utilizzo di radici artificiali di titanio che vengono inserite nell'osso. Non è un intervento più diciamo pauroso a dirlo che a farlo in realtà perché si fa sotto anestesia ed è un intervento molto ormai molto semplice ovviamente per chi sa farlo, quindi vi faccio un paragone molto banale che faccio ai miei pazienti che capiscono, un impianto è come mettere un tassello nel muro. Si mette questo tassello nel muro che è la vite, questa vite di titanio, questa vite come i tasselli chimici diciamo, fa un paragone sempre di bricolage, richiede dopodiché circa dai 3 ai 4 mesi in cui deve essere lasciata, diciamo, lasciata stare. In questo periodo che cosa succede? Avviene il fenomeno che si chiama osteointegrazione, in cui la vite viene totalmente inglobata e diventa un tottuno con l'osso. Passato questo periodo, quindi questi 3-4 mesi, sopra la vite artificiale viene avvitato un moncone, che quindi è un sistema di connessione fra l'impianto e l'ambiente della bocca, sopra il quale viene messa quindi la capsula, quindi il dente visibile, che può essere o avvitata o cementata di ceramica, di composito, a seconda di varie scelte tecniche o di materiali. Ovviamente, dicevo, è la scelta più corretta perché ogni dente può essere sostituito con un dente artificiale che ha una sua radice e una sua corona, però la condizione è che ci deve essere osso per farlo, quindi la cosa che io consiglio a chiunque vuole intraprendere una strada implantare è di non farsi fare preventivi o scelte o interventi solo sulla base di lastrine piccole o sulle panoramiche, ma è fondamentale avere quella che è un attack, l'attack per vedere a livello tridimensionale l'osso residuo, in modo da essere precisi e poter pianificare al meglio l'intervento di inserimento, oppure l'eventuale ricostruzione dell'osso. Infatti vi ricordo che attualmente con le tecniche moderne, con degli specialisti ovviamente competenti, è possibile in qualunque caso andare a ricostruire l'osso e mettere gli impianti, anche in caso di atrofie veramente veramente estreme, quindi con interventi ormai di chirurgia ambulatoriale un pochino pesanti però di routine ormai, che quindi sicuramente non prendete per buono il dentista che vi ha detto no non c'è osso, quindi non possiamo fare nulla, in verità sappiate che ci sono tecniche per ricostruirlo l'osso e quindi mettere gli impianti. Quindi quella prima cosa che vi consiglio, sempre farvi fare un attack, quindi o in studio, per gli studi più moderni che ce l'hanno, noi abbiamo l'attack nello studio, oppure si va in studio di radiologia, si fa l'attack, a quel punto il medico può misurare proprio effettivamente l'osso residuo e andare a fare, perché ricordiamoci che non si scherza, perché è all'ordine del giorno impianti che vengono inseriti, che vanno a ledere i nervi oppure a creare infezioni molto importanti, gente che rimane anche con parestesia o anestesie di zone della bocca, quindi bisogna bisogna farlo con molta attenzione questo tipo di intervento. Quindi questo è come possiamo tutte le carrellata di tutte le possibilità per mettere i denti. Io metterei un altro brano musicale, poi andiamo a chiudere la nostra chiacchierata. Ugo, proponici qualcos'altro. Molto volentieri. Il gruppo è sempre quello. Va bene. Quindi così almeno mi dite anche come sono. Perfetto. Buon ascolto. Ma ricordiamo sempre Ugo che tutti i brani musicali che noi mettiamo sono senza diritto d'autore. Esatto. Vengono prese dalla piattaforma di Giamendo.com. Giamendo che comunque io oggi ne ho scaricati penso più di 200. Mi sono dato all'hip hop oggi e ho scaricato comunque. Invito sempre i nostri amici a esplorare questo sito perché ha della musica di altissimo livello. Esattamente. A te Ugo. Il gruppo è sempre il solito. Freaky Clean e Diki F. Buon ascolto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. You're the best thing I've ever had The wind is blowing higher Writing letters in the sand The wind is blowing higher Writing letters in the sand Won't you let me know, mama If you found another man You're the best thing I've ever had Riprendiamo la nostra chiacchierata Penso nel trans finale Con il dottor Stori Simone Il nostro dontoiatra Vai pure avanti Simone Eccoci Allora diciamo che ovviamente Dopo tutte queste belle cose Spesso e volentieri Quando si parla di dentista Si parla ovviamente della parte economica Quindi ci tengo a dare un po' una carrellata Di quello che è diciamo il panorama A livello di vista economico Anche perché se ne sentono dire di tutte O si vengono per strada gli annunci Di tutti i tipi Innanzitutto vabbè ci tengo a differenziare Il low cost da Il low cost o l'estero Dall'autodontologia convenzionale All'estero I costi ovviamente sono molto abbordabili Ma non perché noi siamo cari È un concetto veramente molto semplice Tutto all'estero Il dipendente costa meno I materiali costano meno Gli affitti costano meno Così come Tu che vai in Moldavia Il biglietto del bus lo paghi Un pranzo intero Costa 7 euro E da noi ne costa 70 Un dente costa 70 euro Quello che noi ne costa 1000 È un concetto che è molto semplice È veramente molto banale Ovviamente Quindi il problema però Ovviamente il prezzo può molto allettare E capisco assolutamente Quindi c'è una corsa all'estero Sempre più forte Però quello è un po' I problemi sono due Secondo me Ci tengo a sottolinearli Il primo è un problema Di danno biologico Spesso Perché le terapie Sono molto standard Cosa si fa? Nella maggior parte dei casi Tolgono tutti i denti E si fa quello che ho detto all'inizio Quindi queste tecniche Quindi tolgono tutti i denti Mettono 4 o 6 impianti E in una settimana Esci con i denti nuovi Quindi i denti Che noi ci accenniremmo A salvare con tutte le nostre forze Spesso e volentieri Vengono tolti Senza pensarci su due volte Perché queste riabilitazioni Sono rapide E sono remunerative Ovviamente Per loro Comunque voi spendete poco Ma loro ci guadagnano Di più che quello che guadagniamo noi Sua stessa prestazione Questo è importante Secondo fatto Purtroppo A volte È proprio un problema Di fretta Cioè La bocca Ha bisogno di tempo Cioè La biologia Non è uno scherzo Quindi In una settimana Fare un lavoro Di questo tipo Può Allora In molti casi Sono persone Che gli va tutto bene Ma sono quelle persone Che Se si tagliano Non succede niente Hanno un buon sistema immunitario Sono persone Che difficilmente Avrebbero comunque problemi Se invece uno È un pochino più Soggetto a infezioni Oppure Hanno messo gli impianti Senza curare la parodontite E questo succede anche in Italia Purtroppo Quindi Perdo il dente Metto l'impianto Ma non curo gli altri L'impianto si può ammalare Quindi La stessa infezione Che avviene nei denti Che si chiama parodontite Attacca gli impianti E quella che si chiama Perimplantite E gli impianti Perimplantite Spesso e volentieri Vanno tolti dopo anche Uno, due, tre anni Quindi Io l'altro giorno Ho dovuto dire Un signore Che aveva fatto gli impianti Due anni fa Che a breve Avrebbe dovuto perderli Ovviamente È molto arrabbiato Soprattutto perché Quando li perdo Dopo Non ho più osso Per metterli Quindi Diventa veramente C'è gente che torna Da Da Veramente in usina Però Io inoltre Io vado In Croazia In Moldaria Dove vuoi Hai un problema Cosa fai Torni là Da noi Hai un problema Torni e noi lo risolviamo Un problema all'estero Possibilmente Te lo devi tenere Quindi La critica Appunto a mio vista È molto Non voglio far critica Nei polemiche sterili È La questione del costo Ovviamente È molto allettante Se uno Dico Non ha denti Classico Ha una dentiera Ha già i tessuti guariti E vuole spendere poco Io personalmente Dico di andare in Croazia Perché fa bene Però uno che magari Ha i denti Li può salvare Oppure ha delle infezioni Sinceramente Io Starei attento E ne ci pensare due volte Perché soprattutto Noi abbiamo Delle situazioni Cioè magari L'importo è molto alto Del preventivo Però se lo andiamo A spezzettare E gestire per il meglio Parlando col paziente Riusciamo Come facciamo noi Di solito A gestire tutto Nel tempo Dando un lavoro dignitoso E con i costi giusti Quindi ci sono delle soluzioni Non bisogna per forza Essere radicali E andare a fare tutto E questo ci tenevo In Italia Oltre a dentista convenzionale C'è il panorama Dei low cost Quello che voi vedete Tanta pubblicità In giro L'impianto a 200 euro 300 euro In questo caso Come fanno A tenere i costi bassi I costi bassi Sono tenuti Grazie all'utilizzo Di politiche Industriali Quindi L'odontologia Costi è gestita Non da dentisti Ma da imprenditori Che vanno a gestire Tutto il livello Di politica Di controllo di gestione Controllo di costi Questo fa sì Che riescono a lavorare Magari Cosa dicono L'impianto L'otturazione Deve costare 50 euro Però tu devi farla In 20 minuti Quindi non hai Un controllo di qualità Molto alto Quindi la qualità Tutti dicono Tutti dicono di qualità Perché nel marketing Nessuno dice Che vieni da me Che fa schifo Quindi è un falso Io non pubblicizzo La qualità Perché la qualità È scontata Non è che puoi dire Che fai bassa qualità Comunque a parte questo Quello che voi Se voi vi affidate Trovate un medico bravo Tutto bene Se trovate uno Che non è bravo E purtroppo Non sto dicendo Che non sono bravi Ma lavorare Nel low cost Il medico È pagato pochissimo Quindi chi va A lavorare Nel low cost Sono dei Dentisti Neolaureati Che utilizzano Nel low cost Per fare gavetta E questa Questa è la verità Niente da dire Quindi è così Quindi Se avete uno Che neolaureato Però è bravino E ci vuole mettere del suo Ed è veloce Ok Se no Quello che si dice Pagate Li pagate due volte Perché a volte Comprare bassa qualità La bassa qualità Perché non c'è Il tempo O la Proprio la possibilità Di fare un bel lavoro Non è perché uno Vuole fare un lavoro Fatto male Ma se io ho 20 minuti Per fare un'otturazione Non viene bene Punto Vabbè per poco Così come una pulizia La pulizia costa 19 euro Perfetto La pulizia è fatta Da un ingienista Nel laureato Senza ingrandimenti E viene fatta In un quarto d'ora Che cosa togli In un quarto d'ora Da noi D'ora un'ora Una pulizia Quindi Fatto un po' Di paragone Finendo Quindi Dandovi giusto Una polemica Che non vuole Essere polemica Ma darvi la motivazione Per cui Si riescono a avere Questi tipi di prezzi Facciamo Un'idea Di costi Ovviamente Su quello che so Che panorama Più o meno Bologna Emilia Romagna Quindi Nord Ma anche Studia anche a Bari Allora Una protesi mobile Parziale Può costare Provvisoria Dai 200 Ai 500 euro Seconda dei materiali E del tipo di ganci E di estensione Una protesi Definitiva Mobile Che può essere Una dentiera Una protesi parziale Siamo nell'ordine Fra i 1000 E 1500 euro Per avere una buona dentiera Fatta veramente Con tutti i santi crismi La riabilitazione Quella che vi ho spiegato Che si chiama All on 4 Dai lo costa Trovate anche 3-4 mila euro Che però A parte Quel discorso Che vi ho fatto Di solito Prevede Una protesi sola Cioè Vi tolgono i denti Vi mettono I pianti Vi mettono Una protesi unica Che è di resina Quindi è provvisoria Quindi ne pagate una sola Che però Di scarsa qualità I dentisti Diciamo Quelli Normali Fanno questa riabilitazione Il costo va Dai 9 Ai 12 13 mila euro Ad arcata Però prevede L'estrazione L'inserimento Degli impianti La protesi provvisoria E la protesi Definitiva Quella bella Ok E questa è una differenza Sostanziale Quindi Quando andate a chiedere Un preventivo Per questo tipo di lavoro Chiedete sempre E assicuratevi Se avete solo Una protesi Oppure due Cioè la provvisoria Definitiva Questo è molto importante E ovviamente Fagli evitare molto Il costo Un ponte Diciamo Un ponte Di tre denti Quindi se manca Un dente in mezzo Ovviamente devo prendere Due denti di fianco Abbiamo Il provvisorio Che è fatto di resina O composito Che può costare Dagli 80 Ai 150 180 euro A dente E può stare in bocca Dai 6 Agli 8 mesi Perché dopo Rischiamo che il dente Si cari sotto Quindi mi raccomando Se mettete I provvisori Non pensate Che sia finito Perché i dente Poi vanno sostituiti Dopo un po' di tempo Quindi consiglio Spassionato Piuttosto Non iniziate Se non pensate Di poter mettere I definitivi Perché se no I denti sotto Si cariano tutti E dovete buttare via Tutto il lavoro Il provvisorio A questo costo Un ponte Quindi poi Definitivo Di metallo E ceramica Che è quello Diciamo Convenzionale Va dai 600 ai 900 euro Ad elemento dentario Quindi un ponte Di tre denti Costa Dai 2.500 3.000 euro Fino ad arrivare A un costo Un pochino più alto Se vogliamo In materia di nuova generazione Come ad esempio Lo zirconio Lo zirconio È una ceramica integrale Quindi tutta ceramica Per quanto riguarda Gli impianti Invece L'impianto singolo Facciamo questo esempio Standard Poi si può moltiplicare Se posso fare i ponti Su impianti L'impianto singolo Ha un costo Indicativamente Tutto compreso Che vuol dire La radice di titanio Il moncone Che ci va sopra Il provvisorio Il definitivo Tra i 1.800 E i 2.500 euro Per un dente completo E richiede però Più o meno Dai 4 ai 6 mesi Quindi non è una spesa Che va fatta Tutto insieme Ma viene spalmata Nell'arco di 4 o 6 mesi Poi dopo ovviamente Posso mettere Due impianti E tre denti Quindi vado a spendere Un po' di meno E l'ultimo consiglio Un cui vi voglio lasciare E che se volete Approntare Un'abilitazione Su impianti E evitare sempre Di mischiare Con dei ponti Gli impianti E di denti Perché Oggi proprio L'ultimo paziente Che ho visto Aveva un ponte misto Cioè Un impianto E un dente A livello meccanico Sono cose Totalmente diverse Per questioni Proprio biologiche E quindi Il dente Adesso è perso Quindi il dente L'ha perso Perché era legato All'impianto Adesso bisogna fare Tutto il lavoro Quindi penso Di avervi dato Una carriera No c'è stato Come sempre Tutte le volte Che sei intervenuto Di estrema chiarezza Veramente Come Come sempre Io ti sono già Beh siamo già Alle 11 Io ti ringrazio Aspettiamo Allora Altre puntate Ed è molto interessante Quella che tu Di cui tu mi hai parlato Per i bambini Un argomento Che noi Non abbiamo trattato Ma Anche ascoltando Altre trasmissioni Di tipologia medica Difficilmente Se ne parla Si parla Di tante malattie Certamente Perché purtroppo Viviamo in un mondo Che anche I ragazzi I bambini Non sono esenti Ma a livello Dentistico Se ne parla pochissimo Quindi Approssimamente Parleremo Anche di questo argomento Io Vi ringrazio Vi ringrazio Dell'interesse Dell'ascolto Non so Se quest'altra settimana Questo non lo so Ci sarò Perché Ho Imprestato La Don Quixote Mulini Aventa Una cara amica Che Farà quattro puntate Su una particolare Tipologia Di poesia Tra la poesia E il rap Quindi sono molto curioso Anch'io Di Ha uno strano nome Che Onestamente Non me lo ricordo E quindi Se lei inizierà Martedì prossimo Ci risentiremo Fra un mese Benissimo A te per la chiusura Ugo Molto bene Alfredo Io ti ringrazio Per aver concesso La parola Io come sempre Ringrazio Nostro ospite Dottor Simone Stori Grazie a voi Molto prezioso Fa sempre piacere Ovviamente E non vedo Io personalmente Non vedo l'ora Di poterti risentire Io ringrazio Tutti quanti I nostri ascoltatori Quelli che ci hanno seguito Fino adesso E anche nelle puntate passate E come ha detto Alfredo Ci risentiamo A martedì prossimo Sempre Don Chisciotte E Mulini Avento E Mulini Avento Non sappiamo ancora Se ci sarà Già questo martedì La signora Silvia Parma Ad ogni modo Comunque Ci saremo Certamente Grazie ancora Grazie a tutti E un saluto a tutti Grazie Assolutiamo anche Il nostro Leggista storico Giustamente Il caro Rosario Abbraccio a Rosario Ci sarà Ascoltando Sicuramente Grazie ancora E buonanotte Buonanotte Buonanotte